morto perché sono morto ci ha ucciso un velocità per qualcosa ma non stavamo giocando ma c'entra niente ma ti possono pure rimazzare comunque che gioco di cacca ciao a tutti amici e amiche oggi siamo in questo nuovo video di arc il secondo episodio la carbonemis perché ci segue eppure il dodo stavano venendo da noi e io sono morto qui chico voglio all'uomo a io ride on ok ragazzi eccomi non so perché ero morto sei caduto da qui sopra ma come allora tu sei svenuto perché abbandonato e quando quando abbandoni il gioco il gioco ti fa addormentare e sei caduto dalla montagna ok comunque saluto al video ragazzi siamo migliorati su questo bel gioco e non so se lo aspettavate da tanto il secondo episodio troppo cattivo si sbriga la pisciarella vai intanto prendo qualcosa faccio qualcosa di utile dove stai qua sto prendendo un po' di roba ok vedi che hanno fatto un po' di livello il gioco il coro andiamo aspetta aspetta oh dobbiamo trovare un'altra creazione della casa eh guarda lo sto vuol dire dobbiamo trovare una zona tranquilla per trovare la casa qui sopra zona tranquilla no però vabbè si spetta aspetta 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 stappo stappati dove non seguire quelli lei quelli lì no mi sta scendendo troppo la fame perchè mi scende così tanto la fame perchè corri stavano vincivolo perché è un posto tranquillo io ho sbloccato tutto in paia però la roba in paia non me la voglio fare no ce la dobbiamo fare la casa in paia facciamo un magazzino in paia e poi ci facciamo la casa in legna come Zellongamer che si è fatto subito in legna ma noi non siamo ancora troppo a cioè doveva arrivare al livello 11 per avere il legno lui infatti è andato in giro non ha ancora cioè lui non ha mai catturato all'inizio non ha catturato due dinosauri noi si ma non dovevo essere come le quattro per un legno beh infatti però vorrei essere come lui esplorare un pochino il mondo vabbè poi lo esploreremo lo esploreremo tipo nel livello tipo nell'episodio 10 raggiungiamo il livello boh e ci facciamo la sella per l'optero d'attilo ce lo catturiamo e andiamo in giro però spero serve il livello 38 e vabbè che dici nell'episodio 10 se la faremo beh sì se siamo veloci se siamo elettrici ce la facciamo comunque quindi mettiamoci al lavoro così saliamo un botto di livello dai dai spianiamo la zona aspetta io ne vediamo tutte le pietre allora iniziamo a fare i pavimenti allora io intanto spiano e butto la roba per terra allora la pietra dov'è ok io butto pure il metallo perchè madonna ciao 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 c'è il coso con il cappello sopra con la cappella dura e scusa io voglio capire prima piscio poi mo mi viene da cagare porca buco pasqua lo sai che io sono stronzo lo sai che io questa parte che hai detto lo metterò nel video ci sta una scimmia è un coso con una cappella dura in testa no hai due cosi ma che cazzo cosa dici porca di quella cagli dopo dai no non ce la faccio più mi cago addosso sta un optero vabbè vai vai io intanto addomessi con l'optero morto 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 We won't see tomorrow But the time can be this happy girl Just wait a night long All wait for the years We've known that my God forever I wanted you to We won't see tomorrow I wanted you to know We won't see tomorrow But the time can be this happy girl Just wait a night long All wait for the years We won't see tomorrow 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 Just wait a night long All wait for the years We won't see tomorrow We won't see tomorrow Just wait a minute dieci ripagli ogni volta di un botto vabbè ma la pietra non la possiamo ancora usare cioè di pietra di legno sbagliato e al lobo sono salito vivo assolutamente l'acqua che dici se andiamo a bere un po di acqua si però il problema è che abbiamo usato troppo in fretta ma allora posso fare altre 12 muli bastano aiuto di carne di carne non c'è niente però io già ce ne ho 5 vieni qua e 5 di carne bella cotta e pronta per lei bene il mio nipotino guarda un po' ha fatto un po di detto dai mamma mancano tre soffitti no vabbè già tanto che ho fatto questo mi manca la paia me ne dai un po di paia non ce ne ho mi manca paia e fibra non ce lo voglio per i fibra c'è uno assai uno 48 non è proprio assai a me mi serve come si chiama mi serve il coso quello la l'armadio vito come faccio a vedere il coso per sbloccare gli oggetti allora cerco e optio cerco e optio ah potere sbloccare la scatola no non posso sei ancora io si la sbloccata la posso fare io eh fallo ti parlo dobbiamo scappare da questa zona perchè c'è un carno io non esco da casa io un pochino lontano se stiamo sopra casa io lo addomestico se stiamo sopra casa si eh ma eh ma non fare la follia dove sei carnuccio carbonemis vabbè io sto in casa muori che veramente vuoi far morire la carbonemis venite carbonemis non ci farmi entrare sta qui rivenete sta lì a destra sta proprio qui ah attacchiamolo attacchiamolo perché ce la stiamo facendo no è morto è morto è morto l'abbiamo ucciso grande carbonemis ma quanto si resiste la ciccia ha fatto pure ovviamente i livelli ha fatto due livelli tutti quanti in giro bisogna essere forti il dodo no non è morto non è morto non è morto non è morto ah eccolo questo fifone non si è nemmeno avvicinato questo fifone non si è nemmeno avvicinato ok comunque abbiamo superato il pericolo si sono a livello no dai ma tra un livello sblocco l'arco ma dai veramente ah già si a livello 10 si sblocca ah ma tu hai detto a livello 30 o qualcosa ma a livello 3 io ho detto a livello 38 per la sella dell'otero fischia passivo no ho messo passivo così chi li attacca no neutrale neutrale così chi li attacca neutrale l'ho messo ok bellissima la casa ragazzi votate se vi piace la casa a me piace anche a me però guarda vorrei fare tipo qui una finestra eh no dobbiamo metterci solo una porta solo con il legno solo con il legno la finestra cazzo cazzo beh sì sì eh io metto a cucinare le cose poi mi hai detto che volevi un'armada no? ehm vuoi essere accontentato magari vuoi vuoi sapere quanta carne c'ho? 23 questo tutta cucina 9 me la prendo io ho fatto la capa vuoi mettere qualcosa bello bello non so se ci devo mettere che mi sono avanzato allora si mette cioè capito che il boda ha fatto pure un livello che non ha fatto un corno vabbè vabbè cioè allora come faccio a mettergli tutto? la dobbiamo prendere no ma ci ha rotto un pochino casa ci ha rotto un pochino dentro vabbè dimmi come faccio a mettere di tutto velocemente eh ma dimmi come faccio a mettergli tutto velocemente ci vuoi mettere proprio tutto il tuo inventario? no no devi tenere per molto sulle robe ah perchè gliela cacca? dobbiamo fare immediatamente un pestello eh ma non posso più mettere roba? no solo 15 eh ma viene con me che ci andiamo a fare un po' di quante petra c'hai giusto? 12 tavolo me ne serve 65 le bacche me le tengo no le narcoberri non le prendere ok la legna si dai cavolo devo avere 65 litri ma io lascio tutte le bacche eh ma che è un altro carro dove? vuoi uccidere io? ma è molto lontano vieni qui ma piove c'è la nebbia ma no ma è caduto dalla montagna era morto si ma piove no ecco il nostro no ecco il nostro perca di vermi scusa ma quanta dietro c'ho? 70 è l'amato io che stavo lì a farmare non mi ricordo come si rompe la roba quindi la rompo ad accettate no ma rompiti eh ma perchè? rompiti ma perchè lo vuoi rompere? scusa una cosa voglio far vedere quello qui perchè lo vuoi? come finessa fermi perchè lo vuoi rompere? cosa hai osato fare? niente non sfidare mai il cecchinaro guarda mi trema tutto guarda mi trema tutto io vado là dov'è la mia lancia? vieni qui io si si aia no dai eh ma non ci combattiamo però ma do daia ma però era solo perchè no ma prenda pure l'assamina ma dai aia via non c'ho più la lancia eh l'ho presa io cazzo fai mi uccidi? e io abbandono ok ragazzi la serie non la continueremo mai più un saluto ragazzi e al prossimo video non di questa serie bella che cazzo c'è? che cazzo c'è? cosa è successo? niente questo è scemo che cazzo 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 c ma scusa facciamo entrare la carbonemis e facciamoci come la fai entrare guarda lo lascio lì sembra cagato guarda gli cari infatti diventando giorno così possiamo addomesticare il track magari tanta tanta ragione io sono un parkurista ma aspetta aspetta rimane lì sopra oggi lo posso attaccata qua tu lo attiri e io lo attacco aspetta salgo furia di sopra se ci riesco aspetta poi il problema è come facciamo a scendere come facciamo ci buttiamo tanto vabbè io vado su un muro più alto perché più alto così morire non riesco a venire lì eh lo so lo so no no vabbè come faccio a capirlo ti provo con una freccia vai avvicinati avvicinati senti ma io c'ho le pietre però sì ho riuscito vai non mi fa sparare le pietre è perché è buggato ok sto colpendo con la fionda attaccano pure te ah perché così si mira così si spara si è bloccato si è bloccato no vabbè che stile ma che ma abbiamo il dry car gratis è proprio così ha già scappato è ma si è addormentato fermo eh ma è già nostro ma che cos'è femmina livello 3 e narco berri ce le vai a prendere tutte le cose stanno in casa ci stanno un botto di bacche nella cosa nella cassa non mi sembra dove scendere al risalire spaginare la tormenta ma è quel livello no è il livello 3 dove stai il livello 15 vabbè guarda ma io non saperlo perché sennò viene ad aiutare a scoprire intanto mi rifaccio lascia e visto che bella tattica io con la fionda invece di caricare stavo solamente mirando perché sono abituato con minecraft c'è c'è un problema dimmi una giocciata vabbè sbrigati portale e bacchi tutte e in teglia che mi ha perduto da che mi addormento no no tutte bastano poco con ieri mi ragioni che mi addormento prima che il teleporto sai non lo compisco perché c'è ma non lo compite eh si è così lo stordisco tanto c'è un botto di vita eh ma le narco berri non ci stavano cosa hanno preso un botto eh non ci stavano possibile qualcuno si è mangiato va bene ma raccogliene un problema eh ma mi dispiace non ce la faccio sali sopra no no ma che sali sopraveni tu eh ma non posso correre sono troppo lento eh ma perchè c'ho sede corri vabbè spregati lascia le bacche e spregati e vattene a bere c'è raga c'è ma si è bloccato proprio c'è che bello hanno modificato ora si sente più bene mentre il russo è fighissimo il gioco mi sorprende sempre di più diventa sempre più bello eh ma lo sai che gli hanno cambiato pure come è fatto l'hanno cambiato pure come è fatto diventa sempre più bello sto gioco tra poco aggiungono un nuovo bioma in le isole a questa mappa mhm aggiungono un nuovo bioma che ti devo dire la verità è stilissimo mhm e ci sarà il brachiosauro mhm invece del bronto il brachiosauro il carcaro di un tesauro senti ma non ti metto un'idea facciamo come Dillon Gamer che lui è fulbo è fulbo è fulbo è furbo lo fa morire di fame cioè morire no però gli fa venire molta fame poi lo fa mangiare e così mangia un botto infatti sta morendo di fame gli ha messo le bacche e è arrivato a 20 con 2 secondi mo sta a 30 no è mamma lui è arrivato a 20 e 30 immediatamente non perché ci si fa fame ma perché livello 3 quindi si ha domestico 2 secondi si ma prima è arrivato a livello 25 poi 26 e ora sta a 30 in realtà in realtà vabbè dovevamo andare iniziare a trovare uno ferro dai che ci vedo come ha domesticato da tributi colui che serva ah si perchè io dovrei trovare la mia tributi si però ho domesticato io io eh ma non dai di pun eh ma l'ammazzi no guarda che l'ho vista la vita eh oh ma ce n'ha poca vieni con me andiamo a cercare un altro cazzotto eh mi do un altro cazzotto eh ma lo possiamo anche lo possiamo anche lasciare qua andiamo un attimo a prendere uno si vabbè tanto